È un'operazione completamente diversa, nel senso che come sapete l'operazione di Pazzini, questo lo dico perché ho letto come voi, è stata fatta con cessione definitiva da Sampdoria all'Inter, quindi con un'imputazione di bilancio che tocca questa stagione. Noi non potevamo assolutamente entrare in corso in questa trattativa, ma ribadisco ancora una volta come Matri era un obiettivo nostro già da tanto tempo, quindi è chiaro che siccome la concorrenza per Matri era notevolissima perché la Lazio si era fatta sotto il Milan, comunque era disposto ad accappararsi nelle prestazioni da subito pur avendolo poi a disposizione nella stagione futura. Quindi è evidente che bisogna sempre giocare sui tavoli, fuori dubbi, perché l'esigenza nostra era quella di chiudere questo mercato con l'ingresso di un nuovo attaccante, considerando anche che c'erano possibilità di trasferimento per Amauri. Nel gioco forza bisognava pensare a uno e quindi la nostra rosa si è ristretta e abbiamo puntato decisamente sul giocatore che aveva più credenziali, anche chiaramente in una logica di carattere economico evidente. Ci tengo a puntualizzare ancora una volta perché leggo delle cose che sono veramente non veritiere. Quando si tratta di cessioni temporanei con diritto di riscatto significa che il diritto non è un obbligo e quindi noi andremo a valutare tutte le operazioni al momento opportuno, considerando che i diritti di riscatto si esercitano entro la fine di giugno. Questo significano due cose. La prima è che non siamo obbligati a riscattare i giocatori, la seconda comunque è che eventualmente si possono essere anche delle contropartite di carattere patrimoniale, perché come ho detto prima ci sta che noi diamo dentro dei giocatori come si fa sempre e quindi questo significa alleggerire il peso economico. Noi siamo soddisfatti, comunque ci tengo a precisare, di tutti i giocatori che abbiamo in prestito con diritto di riscatto, mi riferisco ai nomi che tu hai fatto, quindi Quagliarella, Aquilani, tra i più importanti, ma c'è tempo per ragionare con la controparte su come arrivare a una definizione.